è la meno diciamo così brutale, è la meno divissima, quindi desidero sapere a livello di attrazione di mano o di formule plastiche se c'è un accordo sostanziale a questa proposta che ribadisco è essere tutti presenti in forza del 14 facendoci aiutare l'uno agli altri in modo migliore possibile e se possibile presenti senza insegne, senza confalone, senza labari, senza corteo il giorno 15 alle ore 10.30 alla messa, previa lettera di chiarimento spiegazioni dell'atteggiamento a statosso, copubblicazione, copubblicazione, questa è la proposta di invitare il vescovo a ripensarci o comunque per il prossimo anno direttamente nella lettera si 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 fa al cammino ma anche barile spiegatamente, Forse! Scusi! i marinai che hanno detto che noi non lo mondiamo rendula senza labar. dai miei marinai invece sono torta muri sc tiresino proprio, disse? no, è normali, non lo fa vaglio, vorrei prendere fatto in generale rubini? Noi in segna e noi in segna. Senza segnale, senza distrutti. Senza segnale, da me la camicia. Parlo io.